questa è carne da salsiccia? sì, è carne da salsiccia! il piedi porco è tutta ciccia? il piedi porco è tutta ciccia! non è buono lo zampone? sì, non è buono lo zampone! questa è fatta a tortiglione? sì, è fatta a tortiglione! con la porchetta la greppa è perfetta o uova e pancetta o la cotoletta o due zamponi o i salsiccioni? comunque le fai sono sempre buoni! adesso tutti insieme! a granny piacciono davvero un mondo le montagne russe e sembra che non veda l'ora di farci un giro aiutiamola a raggiungerle un tubetto di colla può aiutarci a rimettere le piume sulla coda dell'aereo? sono la mappa, sono la mappa, sono la mappa, sono la mappa, sono la mappa! Dora e Boots devono riportare Maribel dalla sua mamma che vive nella baia delle sirene la baia delle sirene si trova proprio in fondo all'oceano Dora e Boots hanno bisogno di arrivare al grande albero per salvare il gattino rimasto bloccato tu riesci a vedere il gattino? davvero un bellissimo ballo amici miei wow Daisy ma guardati sei tutto impolverato sono di nuovo pulito quello deve essere uno spolverino di piuma volante pulisci tutto dappertutto è in grado di pulire qualsiasi cosa in qualunque posto del mondo si trovi wow dovresti portarlo con te Daisy non si sa mai potrebbe tornarci utile più tardi sai oi 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 ah volete aiutarmi ancora? super super fantastico allora allunghiamoci alti come una giraffa in punta di piedi allungatevi se ci allungheremo la chiave prenderemo più in alto che possiamo su le braccia tendiamo e salziamo si presa grazie mille amici forza oltrepassiamo la porta del pennarello coraggio amici miei andiamo c'è soltanto questa enorme scatola per caso vedete l'ultima porta? non ci sono parti i pennarelli questi pennarelli sono magici stanno disegnando da soli davvero un meraviglioso ballo amici miei che cos'è? è una specie di puzzle guarda sono io se metti in ordine le caselle viene fuori un disegno fammi provare Desi davvero un bellissimo ballo amici miei wow Desi ma guardati sei tutto impolverato sono di nuovo pulito quello deve essere uno spolverino di piuma volante pulisci tutto dappertutto è in grado di pulire qualsiasi cosa in qualunque posto del mondo si trovi wow dovresti portarlo con te Desi non si sa mai potrebbe tornarci utile più tardi sai la nostra recita sui piranni è piaciuta a tutti lo sneak si trova tra noi e l'uccellino azzurro se solo avessimo qualcosa da fargli inseguire in quel caso potremmo distrarlo e salvare il nostro uccellino vuole non fare vuole non fare accidenti dora l'esploratrice gnollino quello è un chihuahua con un caldo cappottino e un cappello ho tanta voglia di vederlo è chiusa ci occorre un'altra chiave volante volete aiutarmi ancora? super super fantastico! allora allunghiamoci come un albero! in punta di piedi allungatevi! se ci allungheremo la chiave prenderemo giù in alto che possiamo sulle braccia tendiamo e saltiamo! si! presa! grazie amici miei coraggio! oltrepassiamo la porta del chihuahua da questa parte questo parco è super fantastico fa un po' freddo le foglie stanno cadendo dagli alberi significa che sta arrivando l'inverno chihuahua chissà perché corrono in quel modo non lo so beh, adesso è il momento di entrare in azione vedete la prossima porta? hmm hmmm Grazie a tutti.